Siamo con Pierpaolo Barison, di fatto il nuovo sindaco di Villadose. Complimenti. Da cosa iniziamo? Cosa vogliamo dire alla città? Beh, innanzitutto grazie. Grazie. Non so ancora quanti saranno i voti, però tanti voti, tanti grazie. Tanti grazie a tutto Villadose. Una grande gioia. Io ho visto anche il sorriso da parte di tanti miei compagni della squadra e quindi in conseguenza va dato subito un grazie a tutti quanti. Proprio grazie, grazie, grazie. Quali sono le prime cose che farà per Villadose? Beh, innanzitutto, come abbiamo promesso, il tour della Giunta sarà importantissimo e indispensabile per quanto riguarda l'avvicinamento, amministrazione, cittadini. Andremo per le vie del paese, riuniremo 4-5 vie ogni sera e all'interno di questi ragionamenti, di questi confronti andremo a analizzare le criticità. Metteremo bianco su nero o nero su bianco tutte le problematiche e faremo una priorità e nel giro di brevissimo tempo le cose che si possono fare e andremo a farle. Questo proprio in concomitanza anche con l'istituzione di un nuovo assessorato al bello, al bel vedere, alle cose belle. Vogliamo che Villadose sia bella. Qual è stato, secondo lei, il punto di forza di questa lista? La serenità. In un momento particolare come questo non servono tanti proclami, non servono. L'importante è proprio avere dato il segnale della serenità. Noi vogliamo fare le nostre azioni proprio per portare tranquillità e serenità. Io ho chiesto ai cittadini all'inizio e alla fine, sono entrato in punti di piedi con una lettera in casa dei cittadini, ho spiegato alcune cose e alla fine ho fatto sintesi. L'importante è capire che la gente di Villadose sono persone buone, c'è una grande speranza e noi vogliamo portare questa serenità, certo, in uno sviluppo sostenibile, uno sviluppo giusto per Villadose. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi.